Ciao amici, come state? Spero tutto bene! Oggi tenetevi pronti perché andremo a fare un mega video dedicato al nuovo laboratorio segreto del gelataio di Ice Cream 7 Ormai lo sappiamo, Ice Cream 7 è già in pre-registrazione sul Play Store e abbiamo pure scoperto che il nuovo posto che andremo a vedere sarà un laboratorio segreto Cerchiamo di scoprire come sarà questo laboratorio ma come sempre, ci sono tantissimi like se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale con la campanella attiva e ringrazio sempre Benedetto Diego per aver fatto la donazione al canale Grazie mille davvero tanto per il grande supporto Ma adesso sigla! Ho voglia di mangiarvi un bel gelatino Un gelato al gusto panino L'unico gelato che vi farà dire Uè buonasera! Ok, forse era meglio non fare le sigle Forse era meglio tornare a non farle Ma che roba! Vabbè, innanzitutto andiamo qua su Esprim 6 perché già qui, nel senso capitolo potete avere dei piccoli indizi che riguardano la fabbrica del gelataio Ok, potete pure schippare qua e andiamo subito in partita dal nostro caro Rodino Ice Cream 4 è ambientato all'interno della fabbrica di Rodi nella zona dedicata agli uffici, museo Ice Cream 5 all'interno della sola macchina e centrale idroelettrica Infine abbiamo Ice Cream 6 ambientato nella cucina Manca adesso da scoprire dove si trova questo laboratorio che cosa bisogna fare Allora, sicuramente sarà un grande laboratorio me lo sento anche perché se deve essere una zona dedicata per il settimo capitolo mi aspetto un laboratorio bello bello grande Lì dentro noi guideremo l'isola la nostra cara Lisetta C'è pure da dire una cosa Guardate bene qua questo pentolone gigante del gelato No, forse me ti mi ha visto Ah no, meno male Non mi ha visto, non mi ha visto Qui abbiamo da un lato i tubi che ci fanno arrivare gli ingredienti che sono ad esempio lo zucchero, le uova e poi l'altro che non me lo ricordo mai Ah, il latte, ecco Ora mi è venuto in mente Infine abbiamo pure un altro tubo che viene dall'alto e forse questo tubo viene o dal laboratorio o dalla stanza segreta di estrazione Ma questo laboratorio e stanza segreta sono collegati tra di loro A quanto pare ogni cosa è collegata Non c'è la cosa che non è collegata con la fabbrica di rod Anche la centrale otre elettrica No, alla fine è collegata sempre con la stanza di estrazione perché serve appunto per dare l'energia necessaria per permettere alla fabbrica di funzionare Ok, allora vediamo qua gli indizi Eh no, è vero qui non è come su Mr. Meat 2 che posso avere gli oggetti toccando là Ah, il consiglia Ok, tocca qua il porta me lo va Facciamo prima, va Eh no, se no qua ci mettiamo una vita solo per trovare le parti del medaglione Lì c'è il mini rod Mini roddino Ti preparo una bella torta per te Vai Buonanotte mini rod Buonanotte Ora però qui devo fare attenzione perché probabilmente verrà rod molto molto presto Allora, voglio tornare qua dentro la stanza di Joseph Sullivan perché voglio vedere se qua si possono trovare già dei riferimenti al laboratorio segreto Ma potete ben vedere qui ci sono tanti plichi tanti fogli tante cose Forse una di queste cose potrebbe contenere uno degli ingredienti della pozione che dovremmo creare nel laboratorio Infatti per a poco vi farò vedere una delle cose che dovremmo fare dentro questo laboratorio sarà quella di creare una pozione un composto chimico una formula Avremo bisogno di ingredienti e forse alcuni di questi ingredienti potrebbero ritrovarsi qui in giro Poi c'è sempre da capire chi sono queste persone nella foto Chi saranno mai Ma molto molto strana Qui guardate pure che cosa c'è ci sono tanti fogli tanti quadri Vabbè adesso direi di andare avanti Vediamo se Roddino è già qui da queste parti No, Roddino non è ancora arrivato Il nostro caro Rod si sta facendo non so che cosa Forse è andato a farsi un po' di dromassaggio Una bella spa Un bel lifting È andato da qualche parte Vi immaginate tipo la vasca idromassaggio qui su Ice Cream In effetti ci vorrebbe Rodd anziché metterti a farti i gelati così Ma fatti una vasca idromassaggio Fidati che saresti molto più rilassato e saresti molto molto meglio No, perché comunque per gestire una fabbrica del genere immagino che il nostro caro Rodd abbia tanti bei soldini, no? Poi andiamo qua dentro e vi faccio vedere qui nel piano superiore arrivano dei pacchi Forse i pacchi che arrivano qui attraverso questo cosa Ho sentito un rumore mini-rodesco Vabbè, dicevo Forse alcuni di questi pacchi che arrivano qua contengono parte della formula che noi dovremmo ricreare all'interno del laboratorio Ma è spettacolare sta cosa molto molto bella No, però lì c'è sempre sto mini-rod Via, via, via No, aspettate io posso pure avvicinarmi Tanto adesso devo fare il cambio personaggio quindi Forse... Eeeh, ma Rodd Ma quando è venuto Ma dai Ma non c'era poco fa È venuto in ritardo proprio Ma con tanto ritardo è arrivato Perfetto Cambio di personaggio Vai Jay Finalmente Se serve a qualcosa anche te in questo video Oh, adesso Tenetevi pronte Perché cerchiamo di scoprire innanzitutto Se il laboratorio è collegato con la stanza segreta di estrazione Ma di quello poi ne approfondiremo in un prossimo video Tanto ci passiamo qui davanti Quindi ve lo accenno già Andiamo di qua Togli sto condotto Andiamo sempre da quest'altro lato Come potete ben vedere qui c'è la camera di estrazione Qui dentro Dove è Rodd porta i chubby boy per essere estratti E chissate Forse poi questo macchinario di estrazione si collega con il laboratorio che andremo a vedere su Icecreen 7 Chi lo sa Ma soprattutto Quali sono gli oggetti che noi possiamo trovare là dentro Che cosa potremmo trovare dentro questo laboratorio In realtà se vediamo già nel museo possiamo trovarne una sorta di anteprima Scendiamo subito di sotto Veloci, veloci, veloci Voilà Ciao mini Roddino Manager Tutto bene? Apri qua la porta Io comunque mi aspetto che ci sia un altro personaggio in stile Terry Martinez all'interno del laboratorio di Rodd Perché i mini Rodd è vero che sono qui che girano che sono fastidiose alla fine Però per rendere il gioco più bello io mi aspetterei una sorta di assistente che si comporta allo stesso modo di Gammy e di Terry Martinez sarebbe molto molto bello secondo me una sorta di non tanto Big Rodd ma comunque un Rodd fattezza umanoide che ci viene a rincorrere sarebbe molto divertente magari di questo ne parlerò in un prossimo video c'è la mini Rodd ma perché guardate i mini Rodd sono fastidiosi fanno rumore ma sono pure lenti sono lentissimi alla fine poi io mi avvicino così e si mettono fuori uso da sole ma che roba adesso sono venuto qua per un motivo preciso questo laboratorio segreto potrebbe essere pure una fabbrica dove vengono creati i mini Rodd questa in realtà è una teoria che mi avete detto alcuni di voi che forse il Rodd crea i mini Rodd all'interno del laboratorio dentro il laboratorio troveremo quindi anche dei mini Rodd scienziati che si occupano della creazione di nuovi mini Rodd e lì potrebbe trovarsi quindi una sorta di macchinario molto simile a quello che serviva per creare i mini Rodd prototipo ma poi c'è ancora questo coso qua che noi non abbiamo visto interamente una macchina straordinaria capace di estrarre il sapore e conservarla in un liquido viscoso perfetto per realizzare le creazioni più stravaganti qualcuno vuole un gelato al gusto di albero di Natale no grazie io non lo voglio il gelato al gusto di albero di Natale però c'è da dire una cosa questo macchinario crea un liquido un qualcosa quindi potrebbe ritrovarsi anche nel laboratorio di Rodd e lì dentro forse dovremmo mettere qualche oggetto per ricavare non so qualche ingrediente mamma mia ma dai ma ma io sento allarmi mini Rodd e così ma poi non viene più vi stavo dicendo forse all'interno del laboratorio dovremmo ricavare qualche ingrediente da mettere nel macchinario e creare la famosa pozione segreta bellissima questa cosa adesso direi di fare una cosa direi di fare un salto indietro nel tempo quindi mi metto qua in un posto sicuro e passiamo su ice cream 1 perché lì dentro possiamo pure trovare una sorta di piccolo laboratorio di Roddino ve lo faccio vedere subito perfetto primo capitolo del gelataio solo con la mod di Outwit che purtroppo non si può più scaricare infatti se voi andate sul sito di Outwit vi dice che il sito non è disponibile per fortuna comunque io sono riuscito a salvarmi la pk da qualche parte ci ho messo una vita a ritrovarla nel mio computer ma sono riuscito a ritrovarla così niente l'ho installata qua e possiamo andare direttamente al punto che ci serve per prima cosa devo mettere qua il coso come che si chiama la corda mamma mia sta corda ogni volta raccoglie la veloce perfetto metti qua dentro velocemente scendiamo di sotto è la prima partita che sto facendo qua da Scream 1 da quando ho installato la mod quindi mi tocca pure seguire il tutorial che purtroppo non si può schippare ma che roba ciao Roddino di nuovo fuori dal furgone ma buonasera e bentornato bentornato qui ho bisogno un attimo del tuo furgone per aggiungere un posto particolare quindi adesso andiamo subito a fare se se uno qua si muovesse si desse una mossa non posso schippare sto filmato lancia un modo per schipparlo ma dai so adesso io direi di fare una cosa per far proprio velocemente mettiamo il god mode così Roddino non ci può neanche venire a prendere ok raccogliamo sta mappa ci andiamo direttamente qui vai e andiamo direttamente nel parking si andiamo lì perché all'interno di questo parking si trova il garage di Rodd ma questo garage è una sorta di piccolo laboratorio quindi mettiamo quello clip così possiamo volare e vai che si vola Ice Cream 7 tenetevi pronti perché avrà una struttura di gioco sia simile a quello che abbiamo visto su Ice Cream 5 e 6 ma anche a quella che abbiamo visto nei primi tre capitoli quindi ci muoveremo di nuovo per la città come è accaduto appunto nei primi tre capitoli eccolo qua guardate questo è il garage di Rodd ma poi si trova già una sorta di piccolo laboratorio perché il nostro caro Roddino qua stava creando un macchinario ce l'ha lì davanti quello è un macchinario di Rodd e potrebbe essere molto utile forse per la creazione della pozione segreta e il settimo capitolo infatti Charlie si muoverà per la città i Keplerians ci hanno detto che andremo a riscoprire dei posti che abbiamo visto pure nei vecchi capitoli e chissà se forse noi dovremmo tornare qua all'interno di questo garage recuperare una pozione particolare e riportarla all'ISO e adesso invece possiamo direttamente proprio vedere l'immagine del laboratorio del settimo capitolo perché voglio far vedere una cosa particolare che non vi ho mostrato nei video scorsi e eccoci tornati con l'immagine ufficiale di Ice Cream 7 con il laboratorio immagine proprio presentata da Keplerians voglio far vedere appunto sta cosa qua finalmente sono riuscito a capire che cosa c'è scritto c'è scritto appunto complete formula quindi qua abbiamo una formula da completare e dobbiamo trovare sei ingredienti quindi uno di questi ingredienti potrebbe essere o ricavibile attraverso il macchinario che vi ho fatto vedere prima nel museo oppure potrebbe trovarsi anche all'interno della città ad esempio dentro il garage di Rod o forse anche dentro lo stallo visto che quella è una zona molto molto importante legata con Rodino Caro lo scopriremo molto presto su questo poi ci darò un altro video per cercare di scoprire dove saranno i 6 ingredienti segreti per comporre la formula del laboratorio ma che roba quindi io direi di fare una cosa direi che per il momento possiamo fermarci qua con il video fatevi sapere qui sotto i commenti cosa ripensate spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mi raccomando spalicciate così vi dite iscrivete a canale con la campanella attiva l'avventura non finisce qua perché qui davanti a voi compariranno ben 4 schede con 4 serie differenti cliccate ne una buona visione e ci vedo in diretta di quelle serie ciao a tutti e buon parino a tutti